Biglietto di auguri che tutto tranne che consueto 8,90 euro e il prezzo dentro ha un meccanismo per giocare aprendo il biglietto viene proprio istintivo si illuminano le caselle e ti invita a giocare a premere i tasti che si illuminano in questa maniera andando anche con una certa velocità nel momento in cui si prema all'interno ci sono dei pulsanti che capiscono e va avanti al passaggio successivo fino a quando poi si completa il gioco e riparte nuovamente all'interno qua ve lo faccio vedere ci sono vari circuiti integrati che fanno funzionare il tutto secondo me molto molto bella come idea si apre e parte si chiude e si stoppa 8,90 euro secondo me è un regalo di compleanno che può essere veramente sorprendente veramente molto molto bello